La giornata per la legalità, un tema sempre più sentito su un'isola che lo stiamo ripetendo non è più così immune da certi fenomeni e quello che lascia ben sperare è il fatto che siano proprio associazioni giovanili che finalmente diventino sensibili su questa problematica. Sì, su questo argomento bisogna sempre essere tesi anche se tra virgolette noi viviamo su un'isola felice, delle interferenze che ci sono in terraferma non ne abbiamo riscontro ma bisogna tenere sempre l'attenzione alta soprattutto con i giovani perché oggi senza un presidio di legalità, senza una considerazione della legalità come fattore importantissimo nella vita sociale comune di tutti si progredisce poco e quindi non dobbiamo mai tenere bassa la tensione e ben vengano queste iniziative da parte delle associazioni soprattutto da parte dei giovani che quasi con autogestione su questo argomento fanno capire tra di loro stessi quanto sia importante il rispetto della legalità e quando parliamo di legalità intendiamo a 360 gradi questa questione e lo abbiamo visto pochi giorni fa quando c'è stata una manifestazione molto molto sentita da giovani delle scuole per le vittime della strada con tanti tantissimi giovani che hanno girato per le strade del nostro paese secondo me facendo un grande servizio a loro stessi e alla comunità intera perché anche quella è un'altra questione su cui bisogna porre rimedio e bisogna dedicarsi molto Insomma se qualche mela marcia purtroppo c'è anche dalle nostre parti però mi pare di capire che tutto sommato la gioventù isolana rappresenta ancora un fiori all'occhiello della nostra comunità questo fa ben sperare chiaramente anche in proiezione futura visto che un domani questa realtà la gestiranno loro Sì sì queste iniziative fanno capire proprio questo ma comunque tutti noi delle istituzioni forze dell'ordine ragazzi stessi associazioni ecco non devono mai abbassare la guardia perché ci vuole veramente poco poi per far degenerare certe questioni che non vanno sottovalutate Grazie 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 Grazie